Altro che carta a sconto benzina come in Lombardia, in Ucraina hanno lanciato lo sconto bikini. Vuoi pagare meno il carburante? Allora presentati in costume da bagno, possibilmente col due pezzi, e questa è la promozione lanciata da una stazione di rifornimento. Centinaia di ragazze si sono presentate alla pompa come se fossero in spiaggia e via di pieno a prezzi super vantaggiosi. Qualcuno, uomo, ha provato a fare il furbo, ma naturalmente niente sconto. Complimenti però per il tentativo. Inutile dire che l'iniziativa è stata un successo. E se la prossima volta i gestori dello stabilimento organizzassero anche un car wash in bikini, si prevedono code chilometriche e casse piene.